Il 18 settembre la Notte Aquilana si illuminerà di iniziative per la Notte Bianca del Commercio organizzata da Comune e dall'Aquila Young. Oltre ai negozi che saranno aperti per tutta la notte, ci saranno iniziative collaterali ad animare la città, come per esempio la Notte Bianca dei Bambini alla Villa Comunale dalle 16.30 in collaborazione con Mamme per l'Aquila. In Piazza Duomo dalle 23.30 un gran galà della Notte Bianca con annessa sfilata di moda, evento presentato da Alessia Spezza, Simone Cocciglia, Roberto Ruggero e Rosa Gargiulo. Ci saranno stilisti importanti con l'Aquilano Francesco Caresta, special guest Daddy di Amici, che chiuderà con un grande concerto, oltre a lui la rapper Anna Pepe. All'emiciclo si esibirà Vincenzo Livieri alle 21.30. Le piazzette aquilane saranno animate dalla musica con vari eventi che inizieranno alle 21.30 e che interesseranno Piazza San Marco, Piazza Regina Margherita, Piazza Palazzo, Piazza Nove Martiri, Il Corso e Piazzetta del Sole, un grande contenitore che vedrà insieme musica, danza, teatro, sport, arte, enogastronomia e commercio. Perché sono stati inglobati nel cartellone anche eventi come lo street food che già erano in programma. Ho reputato giusto, dopo 15 anni dall'ultima notte bianca, quindi prima del terremoto, essere in momento adatto, visto le attività e tutti i negozi che hanno riaperto in centro, ho visto di nuovo la vita, i giovani eccetera, quindi ho fatto questa proposta al vice sindaco, il quale ha subito accordato questo evento e abbiamo aspettato proprio tutto l'insieme degli eventi che ci sono stati quest'estate, che sono stati tantissimi, forse siamo stati la città, l'unica città in Italia che ha fatto tutti questi eventi, e conchiudere con la ciliegina sulla torta, quale cosa migliore che in una notte bianca. Il vice sindaco Raffaele Daniele ha voluto ringraziare anche gli assessorati al turismo, alla mobilità e alle opere pubbliche per il supporto alle iniziative, rese più difficili dai protocolli Covid ma già ampiamente sperimentate, un appendice di un'estate aquilana andata alla grande con presenze e buoni numeri anche per il commercio stesso. Io ho visto una città viva, piena di gente, piena di turisti, ho visto le persone felici e ho visto tante persone che entravano nelle attività, poi per chiarità ci può essere sempre qualcuno, qualche voce che è contraria, però penso che chiunque abbia vissuto la nostra città quest'estate non possa che notare un cambio di passo rilevante.